Per tutto essere Roma, Roberto Molinari dallo Stadio Fransioni di Latina e abbiamo una curiosità. Mamma e figlia, tifosa della Roma e tifosa del Wolfsburg. Adesso ci dovete far capire come mamma e figlia sono differenti. E poi venite anche dalla provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo, tifosissima della Roma e io sono qua a posto. Lei invece è tifoso del Wolfsburg. Tifosissima del Wolfsburg, sì. Ma come mai tifosa del Wolfsburg? Allora, ho iniziato a seguire quando c'era Pernil Harder in squadra. Poi lei è andata al Chelsea ma io ho continuato a essere tifosa del Wolfsburg e di lì l'amore è sbocciato, è cresciuto. Ah, io credevo che eri andata in Germania e era sbocciato un amore reale con un ragazzo. No, per ora no. E tu tifosa? Da sempre, è nata romanista quindi io sono tifosa della Roma. E sei venuta da Cuneo a vedere la Roma? Sì, ma io sono già venuta anche a vedere la Roma maschile. Ah, ma vieni a vedere pure la prima squadra? Certo. Maschile? Maschile e femminile, sì, sì. Noi seguiamo dalla provincia di Cuneo, sì. Tutte le trasferte ti fai? Eh no, quando possiamo. Quando? Non è facile. Quando il budget te lo consegna. Esatto, infatti. Va bene. Ok, vi ringrazio mamma e figlia. Grazie a voi. Ti posiamo al Wolfsburg. Grazie a te.